È un primo passo importante per liberare Piazzale Campo dallo smog, certo non è un'azione risolutiva ma comunque è un primo passo sicuramente storico per il quartiere della stazione che da più da 40 anni chiede lo spostamento delle autolinee GEAF e Codral. Dicevo abbiamo iniziato questa mattina con GEAF, qui nei prossimi mesi inizieremo poi con lo spostamento Codral quindi tra pochissimo Piazzale Campo sarà libera dai mezzi pesanti, ci sarà solo esclusivamente il passaggio dei mezzi GEAF quindi trasporto pubblico locale ma sarà una fermata quindi anche Codral non passerà più all'interno della stazione. Il prossimo passaggio sarà poi quello di intavolare con Codral una serie di riunioni per evitare poi il passaggio proprio dentro la città di Frosione quello sarà la svolta importante per l'ambiente, per la mobilità perché sarà intensificato in maniera forte il trasporto pubblico locale mentre quello exurbano verrà portato all'esterno della città.